Cosentino Uomo lo trovi su Corso Progresso a Catanzaro Marina e a Via San Giovanni Bosco Soverato. Due giorni di grande festa al centro commerciale Due Mari di Maida per celebrare il decimo anniversario dall'apertura. Come ogni anno il centro è rimasto aperto fino a tardanotte con numerose iniziative studiate per accogliere tutti coloro che hanno voluto partecipare all'importante compleanno. Domenica il grande atteso concerto di Alex Britti. Il cantautore romano ha deliziato il pubblico presente con i suoi più grandi successi. Adesso l'appuntamento è per l'8 giugno con il concerto di Max Gazet. Entrambi gli eventi sono stati e saranno premiati con il riccio d'argento del celebre orafo Gerardo Sacco e simbolo del live d'autore della 27esima edizione di Fatti di Musica Radio Jukebox. Lavo tutti i tuoi zitti, lavo tutti, l'alterati e smacchi, come traccia da non cercare qualche storia, capite, ecco che mi manchi. Lavo tutti i tuoi zitti, l'altro, capite, ecco che mi manchi. Lavo tutti i tuoi zitti, l'altro, capite, ecco che mi manchi. Lavo tutti i tuoi zitti, l'altro, capite, ecco che mi manchi. Piove, sui monti e sulle strade, sui pezzi a miei parole, sui cuore mio che parte Piove, sui poveri soldati, sui campi abbandonati, e sulla mia città Signore, mentre guardo il mare, penso alle parole che mi ha lasciato scritte Oh, non dimenticare, che amarti quando il mare, non ci penso più A Rosso, sempre il mare o lontano, io sono vicino, dove ti incontrarò Semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice, non ti scordo Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina, e mi preparo un pesce Vuole accendentamente il suo, e nel frattempo a me, non ci penso più A Rosso, è solo a me che stai, con tu cosa le fai, non ci penso più A me che stai, con tu cosa le fai, non ci penso più